Come fare il decluttering in modo ancora più rapido ed efficace con questo trucchetto segreto che adesso ti svelerò. Ciao a tutti e benvenuto a un nuovo video, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono soprattutto l'autrice di una serie di corsi manuali tutti dedicati allo stile e all'immagine di noi donne over 40, in ognuno dei quali si parla anche di decluttering perché è un aspetto talmente essenziale, talmente fondamentale del nostro stile e non solo dell'ordine che regna nel nostro guardaroba che mi sembra impossibile trascurarlo quando si parla di stile e di moda. Oggi sono qui per farvi un video dedicato appunto al decluttering e per svelarvi un nuovo trucchetto che ho imparato proprio recentemente guardando il video di una stylist delle star che mostrava come lei aiuta le sue clienti anche quei casi particolarmente difficili di donne che non riescono a buttare via niente, neanche quello che veramente dovrebbero dare via, con questo semplice trucco. È semplicemente una variante degli altri metodi o delle altre tecniche di decluttering ma io l'ho trovato davvero geniale nella sua semplicità, non ci avevo mai pensato in questi termini, ho provato ad applicarlo ad alcune categorie nel mio guardaroba e veramente nel giro di 10, 15, 20 minuti sono riuscita a declutterare efficacemente e soprattutto senza pentimenti e senza ripensamenti tantissime categorie del mio guardaroba. Una categoria in cui invece non ho ancora fatto ordine e vorrei farlo oggi qui con voi per mostrarvi questo metodo e quello dei miei jeans, vorrei velocemente passare in rassegna insieme a voi i miei jeans e decidere appunto delle loro sorti in base a questo metodo, ma prima vi dico in cosa consiste. Praticamente questa stylist mostrava sulla base della guardaroba di una delle sue clienti come divideva qualsiasi categoria di capi di abbigliamento o anche di accessori in quattro categorie. Da un lato metteva subito i cosiddetti sì, cioè quei capi di abbigliamento che magari abbiamo messo fino a ieri o l'altro ieri perché sappiamo benissimo che sono cose che ci piacciono, che amiamo, che sono di moda e che utilizziamo perché ci vanno bene, ci stanno bene, ci valorizzano e quindi usiamo su base se non quotidiano o comunque settimanale. Quelle cose vanno immediatamente rimesse nel nostro guardaroba e vanno diciamo a formare la base, la spina dorsale di quella determinata categoria. Tutto il resto rientra diciamo in una prima grande categoria che è quella dei no. I no però adesso vanno suddivisi in tre diverse sottocategorie ed è qui che viene il bello perché secondo me questo metodo è davvero geniale. In una prima pila mettiamo subito le cose che decidiamo di scartare senza ripensamenti. Si tratta di tutte quelle cose che non ci vanno più bene, che magari sono veramente fuori taglia, non ci valorizzano e magari non ci hanno mai valorizzate, non sono più assolutamente di moda da anni ormai per cui non le indossiamo per niente volentieri oppure semplicemente non ci piacciono più. La seconda pila è quella dei non ora, si tratta di capi che sappiamo che in teoria dovremmo regalarli e darli via ma che in questo momento proprio non ci sentiamo di lasciarli andare. Questo è un problema che riguarda tantissime donne, qualche volta succede ancora anche a me e proprio in questo, questo metodo si è rivelato efficace. Non dobbiamo per forza darle via, questa è la buona notizia ma possiamo semplicemente per il momento accantonarlo. La terza pila, anche questa è diciamo una novità rispetto ai metodi tradizionali, è quella del no perché non so come. Non so come significa in questo caso che si tratta di cose che non indossiamo magari da almeno sei mesi o addirittura da un anno più, semplicemente perché abbiamo sempre dei dubbi, non sappiamo mai bene come abbinarle, sono cose che di per sé ci vanno ancora bene, ci piacciono, non sono nemmeno fuori moda ma alla fine scegliamo sempre altro semplicemente perché è un pochino più complicato, più difficile abbinarle bene, magari ci mancano non so le scarpe giuste oppure non riusciamo a riproporzionare quel capo dalla foggia un pochino difficile per cui alla fine rimane lì. Una volta che abbiamo diviso tutti i nostri capi in queste tre pile sarà naturalmente molto più facile destinarle a scopi diversi, naturalmente ci sono le cose che non mettiamo più e che scartiamo che vanno date via subito e senza remore, poi ci sono quelle del non ora che possiamo decidere per esempio di accantonare fuori dal nostro guardarobo magari in un altro armadio in vista appunto di decidere cosa fare. Infine la pila più affascinante è quella del non so come perché sono quei capi che in fondo ancora amiamo e che abbiamo nel nostro guardaroba che sono ancora belli e lì dovremmo dargli una seconda possibilità iniziando un pochino a giocare con la moda e a valutare come come abbinarli, proprio mettiamoci davanti allo specchio, prendiamo un capo per volta e decidiamo come abbinarlo. Adesso farò passare rapidamente i miei jeans e vi mostrerò velocemente dove vanno a finire. Inizio da questi jeans bianchi che definirei sigaretta, non proprio skinny perché non sono avvitatissime alla caviglia, sono cortini alla caviglia, li ho fatto fare agli orli io e sono uno dei miei basic estivi quindi per me questi sono senz'altro un sì anche perché li sto già mettendo molto. Un altro paio di pantaloni, questi li assimilo ai jeans anche se sono in cotone, sono questi pantaloni sempre diciamo gamba dritta, sigaretta, quasi degli skinny blu scuri di Liu Jo. Questi li ho veramente da tantissimi anni, li ho strausati. L'inconveniente di questi pantaloni è che hanno la vita bassa, sono ancora proprio di un'altra generazione e per questo motivo tendo a metterli poco. L'altro motivo per cui li metto poco è che il blu scuro non è un colore che rientra necessariamente nella mia palette, è però un colore che mi piace molto purtroppo quindi sono sempre un po' in conflitto. Inoltre essendo un paio di pantaloni non li indosso accostati al viso quindi per esempio con il panna o anche con qualcosa che contenga dei dettagli rossi posso comunque metterli. Il problema di questo è appunto la vita bassa che li rende un pochino fuori moda, inoltre sono abbastanza vissuti perché li ho veramente usati tanto. In questo caso direi che si tratta di un non ora perché in qualche modo non li sto usando, non mi piacciono più veramente fino in fondo ma non mi sento pronta a lasciarli andare anche perché non ho un altro paio di pantaloni blu scuro che non sia un jeans nel mio guardaroba. Veniamo un altro paio di jeans, questi sono dei jeans cosiddetti cropped bootcut, sono quelli che si allargano, scendono leggermente svasati ma sono abbastanza stretti sulla coscia e finiscono all'altezza della caviglia quindi la lasciano bella scoperta. Questi li adoro, li ho comprati due anni fa sul sito di Mango, li ho anche neri uguali identici ed entrambi li indosso, mi stanno anche molto bene come Foggia, hanno la vita media e sono di un bellissimo tessuto leggermente elasticizzato per cui sicuramente li tengo anche perché continuo a metterli. Altro paio di jeans assolutamente must have, anche questi sono un sì per me quindi finiscono nella pila dei sì, sono questi di Mango che assomigliano tantissimo ai 501 cropped di Levis che per me sono i jeans del momento. Questi rispetto ai 501 cropped sono leggermente più elasticizzati ma la vestibilità è praticamente identica per cui se preferite un jeans magari un pochino più di qualità prendete magari i Levis e questi sono un'alternativa leggermente più low cost ma vi lascio il link qua sotto anche dei Levis dove potete trovarli a un ottimo prezzo sono senz'altro dei sì. Questo paio di jeans neri sono degli skinny diciamo degli skinny moderati come potete vedere non sono avvitatissimi in fondo e sono rimangono un classico non li sto mettendo tanto adesso perché andiamo verso la bella stagione i jeans neri per me sono più che altro invernali però hanno la vita medio alta vestono bene senz'altro anche questi sono un sì. Il prossimo paio di jeans sono questi blu di Liu Jo e sono degli skinny jeans un pochino corti alla caviglia. Questo è un modello che era abbastanza iconico qualche anno fa sono in Maryland e sono andati molto forti mi vestivano molto bene ricevo sempre tantissimi complimenti per cui li avevo addirittura presi due volte. Questi sono rimasti quasi nuovi perché gli altri li ho logorati fino a doverli proprio buttare via perché erano consumati. Questi li sto ancora tenendo hanno il difetto degli altri blu che hanno la vita bassa quindi non so bene cosa farne ma non avendo più tanti skinny per il momento è un onora. Veniamo ora un paio di jeans decisamente diverse sono questi di questo bel verdolino che è un colore assolutamente della mia palette armocromatica questo verde è un verde che mi ispira sempre tanto dovrei stirarli ed è un verde molto molto bello e hanno una forma anche loro un pochino bootcut retti sulla coscia corti alla caviglia quindi abbastanza modaioli mi piace moltissimo il colore ma alla fine non li metto mai perché non so mai bene come abbinarli oppure mi sembra semplicemente che siano vistosi però questa primavera c'è talmente tanto verde in giro che ho deciso che sono un non so come per cui devo sperimentare con questi jeans e inventare che bell'outfit perché avrei anche voglia di indossarli. Un altro paio di jeans questi li ho acquistati su Mango credo la scorsa stagione ma ho visto che li ha rifatti anche quest'anno sono color crema quindi un colore perfetto per la mia palette ma sono dei mom jeans io con i mom jeans faccio sempre un pochino fatica quindi anche questi direi che li metto nei non so come devo trovare un modo per abbinarli bene senza sembrare più grossa di due taglie di quello che in realtà sono solo semplicemente perché indosso dei jeans che sono molto più larghi della mia vera gamba veniamo a questo pantalone modello 5 tasche non è proprio un jeans perché in cotone ma in un bellissimo beige khaki questi mi piacciono tanto anche questi li avevo presi in duplice edizione perché mi piace veramente tanto il colore hanno un taglio molto semplice da indossare sono anche gli unici che ho in questo color beige e quindi li tengo senz'altro sono un sì perché non ho altro e indosso questo è un altro modello color crema come vedete abbondano i jeans chiari nel mio guardaroba perché l'indosso davvero tanto e tutto l'anno questi sono leggermente corti alla caviglia hanno una gamba direi più flare che bootcut perché sono larghi abbastanza anche sulla coscia ma sono belli corti alla caviglia questi li ho avuti nell'ambito di una collaborazione con lucchiero e il loro punto forte secondo me è che vestono alla perfezione non so come faccia lucchiero ma tutto quello che mi ha mandato mi vestiva veramente a pennello come se fossi stato dalla sarta a farmeli mettere proprio a posto sono anche di marca queste jeans sono di una marca che si chiama reiko che questa bella etichetta dorata sono andata a vedere sono jeans anche abbastanza costosi e infatti la qualità si sente io con i flare faccio un po fatica perché sono molto larghi e tendono ad allargarmi fisicamente per cui li metterei nel non so come perché un po come i mom jeans faccio un po fatica a indossarli perché non mi vedo valorizzata ma sono sicura che deve esistere un modo per metterli bene i jeans neri di mango sono un altro modello bootcut cropped quindi corti alla caviglia stretti sulla coscia che si allargano leggermente andando verso il basso questi mi piacciono tantissimo anche per dei looks serali carini ma doveva ancora bene un jeans perché fanno veramente una bella gamba e sono particolarmente adatti al mio fisico a clessidra fanno una bella gamba slanciata lasciano libera la caviglia sottile quindi io mi piaccio con questi jeans sono uguali identici come modelli a quelli blu quindi è senz'altro un sì e li mettono nella pila del sì questi jeans sono di mango sono anche loro potremmo dire degli skinny ma degli skinny un po strani hanno una forma un po a carota sono anche troppo corti alla caviglia per cui faccio molta fatica a trovare la scarpa giusta praticamente non esiste devo dire non mi piacciono tanto riesco a metterli al massimo con una décolleté penso che questo sarà un no secco penso proprio di darli via perché non lo so non mi ci sono mai trovata veramente quindi è inutile anche tenerli e penso che li scarterò ecco vedete qual è l'efficacia del metodo finora vedendoli così dicevo ma sì facciamogli fare un'altra stagione un altro giro in realtà poi non li metto mai questi sono un nuovo acquisto sono dei levis 724 che ho preso su amazon se cercate e amate i levis guardate assolutamente qua sotto i miei link perché su amazon in italia trovate quasi tutti i modelli di levis anche quelli più attuali a meno della metà spesso di quello che costano in boutique oppure in altri negozi online quindi consigliatissimo questi 724 sono dei jeans sostanzialmente a gamba dritta abbastanza comodi non stringono assolutamente non li ho ancora sfoggiati quindi li metto senz'altro nel non so come devo studiarci un po ma mi piacciono in realtà tantissimo per cui so già che li metterò qua abbiamo un altro pantalone di H&M che fa il paio con quelli beige che vi ho fatto vedere poco fa sono a gamba dritta direi non proprio skinny sono più comodi più ampi degli skinny ma scendono comunque in modo abbastanza lineare quindi è un taglio che a me dona sono a vita media sono dei pantaloni molto facili versatili da indossare direi classici magari non particolarmente modaioli hanno questo bel colore verde militare che secondo la mia analisi armocromatica è uno dei miei colori amici ed è un colore su cui anzi vorrei investire quindi avere come base un bel pantalone simil jeans come questi è senz'altro utile quindi questo è un bel sì. Infine gli ultimi pantaloni questi un pochino più difficilini perché sono super aderenti e sono degli skinny sono questi a effetto pitonato di Zara che mi ero presa qualche anno fa e che per un periodo ho anche messo volentieri ero più magra di forse uno due chili e questo mi aiutava diciamo a vedermi meglio con questi jeans super snelli ma soprattutto li indossavo con una camicia bianca un pochino lungo con altre cose lunghe che coprono i fianchi questo per me è un non so come perché non metto più quelle cose a tunica lunga perché trovo che non mi definiscano il punto vita abbastanza bene ma allo stesso tempo mi piace tantissimo questa fantasia pitonata indossata magari a stacco con il bianco con il nero con tonalità neutra quindi vorrei studiarci perché mi dispiace darli via così senza dargli almeno un'ultima possibilità quindi li metterei tra il non so come voglio studiarci un po' ecco questa era la mia collezione non solo di jeans ma anche di pantaloni in cinque tasche che assimilo ai jeans e come vedete con questo metodo è possibile ripartirle quindi sgombrare subito il campo dalle cose che non indosseremo mai più decidere quali capi meritano una seconda chance e quindi concentrarci magari su quelli i sì li rimetterei subito dentro nel vostro guardaroba nel vostro armadio e vanno a formare quel bel guardaroba capsula quando mi chiedete come si fa a creare un guardaroba capsula non dovete sempre pensare negativo cosa do via cosa non tengo cosa va buttato scartato no bisogna partire proprio da quelle cose che istintivamente sappiamo che sono quelle giuste perfette per noi poi quelle del non ora le metterò in un armadio che tengo in palestra li separerò dal resto così non mi danno fastidio ogni volta che le vedo ricordandomi che non le sto indossando e invece i non so come sono quei pochi capi che adesso se l'ha selezionato insieme a voi e a cui vorrei dare un'altra possibilità sperimentando un po' ditemi se vi interessa magari vedere un video dove prendo un singolo capo magari un paio di jeans tra questi e poi lo abbino in diversi modi vi faccio vedere gli outfit che ci creo attorno per prendere una decisione finale se tenere oppure scartare se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like un bel pollicione in su guardate anche questi due video che possono essere molto interessanti se state facendo decluttering e ci vediamo al prossimo video ciao